amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish 2 buongiorno a tutti siamo in sponda est questa mattina con il grande tia che guardate cosa appena preso una puccia secolare ma come l'ha presa con un chironomo un chironomo guarda è venuto è partito dal fondo per venirla prendere guardate che cazzo di puccia che ha preso no una meraviglia adesso facciamo vedere chironomo si può far vedere il chironomo è un super segreto allora anche stamattina bollano però non con la cattiveria di ieri quindi ti ha detto mettiamoci un chironomo di quelli grossi no è grossissimo guardate qua è un bombardamento ma guardate ha fatto il secondo lancio prima ha slamato un salmerino e il secondo lancio preso questo banale mamma mia guardate che c'è un bassi davanti che guarda il lago è una forma strepitosa sono le tratte sono in attività proprio incredibile cioè veramente guardate guarda che stanno andando via la puccia va bene ragazzi qui dal big 2 è tutto noi vi salutiamo e vi aspettiamo tutti i giorni dalle 8 al tramonto anche a pasqua pasquetta tutti i giorni sabato domenica festivi il primo dell'anno ultimo dell'anno natale lei cosa mi dice ci sia qua se lei oggi doveva andare in brenta ma io in teoria oggi devo andare una grigliata però per quello che non sono andato si perché non ne ha bisogno esatto devo fare un po di dietro ma lei oggi doveva andare non so dove ma è venuto qui allora ho detto torniamo a tornare venato andiamo andiamo due ore al big fish insomma direi che ne vassa la pena alla grande va bene va bene vada via lei è spaventosa però è troppo brava non fa testo lei è troppo brava comunque ragazzi qui col chironomo con le ninfe è un bombardamento e poi la mattina secca c'è una roba guarda come bollano lì davanti lei è un marcello sopra quell'arbaio lì bollano ogni tanto si mettono in attività va bene ragazzi dal big 2 tutto a voi studio sei spaventoso